Siamo al secondo raduno qui all'Ippodromo delle Bettole di Varese e approfittiamo di questo momento di tregua per modo di dire. Abbiamo Matteo che si occupa di queste cose e chiediamo che cosa rappresenta per voi e soprattutto perché oggi c'è così tanta gente a questa rappresentazione. Allora, noi siamo Off Track, siamo io e Stefano. Abbiamo fatto questo evento per promuovere il nostro sport che è la nostra passione e il nostro lavoro. Quindi tutto quello che riguarda il fuoristrada e la strada, in particolare con i nostri marchi che rappresentiamo che sono Fantic Motor e KL Motorcycle. Abbiamo aperto a tutti gratuitamente, quindi ovviamente con l'aiuto di Varese Terra di Moto e di tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, abbiamo aperto gratuitamente a tutti i piloti licenziati che volevano girare il nostro percorso. So che è una passione già di famiglia, perché se non sbaglio anche il padre e la sorella che hanno la passione, quindi tu oltretutto insegni questa specialità, vero? Esatto, esatto. Io insegno trial, ho dei miei collaboratori che insegnano enduro e che insegnano cross. In generale il nostro lavoro è davvero la nostra passione e quindi la viviamo a pieno. Da che età si può cominciare a montare sulle moto i ragazzini? Perché vedo, avete fatto diverse categorie, prima i grandi, poi i piccolini, ma vedo che anche i piccolini non hanno paura. Probabilmente prima imparano e meno vedono il pericolo. Come sciare? Ma in realtà i bambini possono iniziare tranquillamente dai cinque anni, ovviamente vanno seguiti nei vari passi, però in realtà prima imparano e più sono sicuri un domani quando dovranno andare anche sulla strada per esempio, perché hanno già una padronanza del mezzo superiore. Dove si può girare il Varesotto, visto che siamo qui a Varese, c'è la possibilità e poi dove avete voi l'officina che chiaramente fate questo anche di lavoro. Ma allora, una delle piste che tra l'altro è anche un nostro partner è Motocross Cadrezzate, una pista davvero spettacolare, eccezionale, adatta a tutti i livelli e la nostra officina si trova ad Arcisate in Vio Onorevole Spagnoli 7. Quindi ci sarà la possibilità di venire a vedere per poter vedere le vostre moto, è una cosa che avete appena cominciato, ma vedo che sicuramente già da quanta gente c'è qua la gente è molto attratta a queste due moto. Certamente, passate a trovarci quando volete, vi aspettiamo. Grazie mille. Ciao.